Buona giornata amici, buon trovati alla rassegna stampa di Fano TV, sono le 7 del mattino di giovedì 2 marzo 2023. Abbiamo notizie che riguardano in modo particolare il maltempo, la pioggia che è arrivata improvvisamente dopo giorni e giorni di siccità. Ovviamente la pioggia è stata anche una benedizione ma ha procurato diversi danni perché si è riversata e nel poco tempo in maniera molto molto abbondante ha provocato degli allagamenti, lo vedremo dopo su tutti i giornali, ovvero i due giornali che verifichiamo che insomma recensiamo questa mattina come sempre il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Passiamo però come sempre all'almanacco del giorno e vediamo il santo che si festeggia oggi, si tratta di Sant'Agnese di Bohemia che visse nel XIII secolo, principessa della Casa Reale di Praga, invece di sposarsi scelse la clausura e ottenne dal Papa il privilegio, proprio veramente il privilegio, di vivere in povertà come fece Santa Chiara con San Francesco, quindi Sant'Agnese di Bohemia. Rinunciò a una vita di lussi come quella che le permetteva la sua famiglia per acquisire la clausura e la povertà in un convento. Le previsioni del tempo, il tempo si sta un po' migliorando insomma, vediamo che i cieli comunque resteranno molto nuvolosi, passiamo alla grafica, beh comunque non abbiamo la grafica questa mattina, ve lo dico a voce, i cieli sono molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, ma nel pomeriggio il tempo migliorerà e saranno comunque ripresi in serata, ci sa alternanza tra pioggia e sereno, i venti saranno moderati, il mare è mosso, le temperature tra i 5 e i 9 gradi. Ed ora apriamo il giornale, lo vediamo qui sulla scrivania e il resto del Carlino sulla pagina di Fano. Vediamo subito il maltempo, maltempo la pioggia non dà tregua, chiusa via Papiria, il lido però tiene, il lido dove è stata realizzata quella fossa di contenimento che assorbe l'acqua e fa sì che questa non allaghi tutto il sottopasso di Viale Carducci. È stato comunque attivato il COC ieri, il centro comunale di pronto intervento, anche la protezione civile, corsi d'acqua monitorati, strade impraticabili, allagata anche la stazione e i corsi d'acqua sono stati monitorati anche durante la notte. Alle 18 di ieri erano 33,4 i millimetri di pioggia caduti sulla città, quindi una entità rilevante. Ebbene sono state rese impraticabili diverse strade e anche dei servizi. In via Fossa Santosso e lungo la statale adriatica, in prossimità dell'ingresso a Torrette, si sono rinvenuti degli allagamenti. La strada è stata allagata via Fossa Santosso in modo particolare in una curva che fa sì che la strada si diriga verso via 4 Noventre. E poi anche hanno ricevuto allagamenti delle aree verdi e giardini privati che sono stati inondati. All'ora di pranzo è stata chiusa anche via Papiria per il straripamento. È una piccola frana, è stata così, si è verificata nei pressi di Ronco San Baccio. Anche a Caminate si è intervenuti per mettere in sicurezza l'accesso di un'abitazione ostacolato dall'allagamento di un ponticello. Nessun disagio invece, come abbiamo detto, si è verificato a Lido dove per oltre 30 anni quel sottopasso è stato allagato. Ora quella struttura che è stata realizzata ci ha voluto del tempo per realizzarla, ma adesso funziona. Insomma un quadro, i giornali fanno un quadro di tutto quello che è avvenuto. Vediamo anche il Corriere Adriatico come riporta la notizia. Pioggia tracima il canale Albani, l'Adriatica diventa un acquitrinio, viabilità in tilt, ma il traffico deviato soltanto a Bellocchi. Insomma, anche se ci sono state delle pozzanghere piuttosto voluminose, il traffico è continuato solo a Bellocchi. È stato deviato ed è stato attivato anche il centro comunale. Vediamo anche le fotografie perché sono significative. Vediamo come le strade si sono trasformate in grandi, grandi pozzanghere. Vediamo qui sul Corriere Adriatico e vediamo qua invece l'allagamento sul resto del Carlino. Ma non solo Fano, ma anche Senigallia ha patito del maltempo. Lo vediamo qua sul Corriere Adriatico. Il Misa si alza ma regge, cedono i fossi. È stata l'ennesima mattinata di paura. Ha superato il livello di sicurezza a Betolelle. È stato anche qui aperto il centro operativo comunale. Chiusi il maestrale, si tratta dei centri commerciali. Il maestrale, sì con te, è amico Market, appunto per il maltempo. Insomma, questa volta Marzo ha fatto il suo ingresso con un effetto piuttosto pesante, piuttosto roboante. Ma non solo questo. Vediamo che anche Marotta ha avuto dei danni. Marotta Nord va ancora sott'acqua. Grande paura con strade allagate. La pioggia torrenziale trasforma via Ferrari in un torrente. Paratie davanti alle case per impedire l'ingresso dell'acqua. L'allarme rientra alle ore 19. completamente invaso dall'acqua il sottopasso pedonale sotto la ferrovia tra la statale Adriatica e via della Chiesa. E poi gli agenti della polizia locale insieme ai volontari della protezione civile sono intervenuti in via Fadi Bruno con le pompe idrovore con le quali hanno liberato le condotte ostruite per liberare quanto prima i garage e i tratti di strada che nel pomeriggio si erano allagate. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fano che hanno eseguito una decina di interventi tra Torrette e Marotta. Quindi c'è stato un gran lavoro anche oltre che per la protezione civile che è intervenuta con le pompe anche per i vigili del fuoco. Chiuse anche le arterie limitrofe, la forza del mare ha impedito lo scarico delle fogne e quindi le fogne hanno rigurgitato l'acqua sulle strade nella viabilità. Questa è un po' la notizia principale che abbiamo sui giornali oggi ma vediamo che ce ne sono anche tante altre e quindi continuiamo a leggere il resto del Carlino. Muro fronte mare, lira degli albergatori. Si sta elevando la costruzione del nuovo cantiere della cantieristica nel porto di Fano quello che è realizzato dalla Weiler. Ebbene questo muro fronte mare suscita la reazione di coloro che amano il turismo di coloro che praticano poi il turismo con le loro strutture. Ho votato la delibera perché ero in maggioranza, ha dichiarato il consigliere comunale Giampiero Pedini mentre Luciano Cecchini, rappresentante degli albergatori, esprime la sua protesta per una scelta, secondo appunto gli albergatori, sbagliata quella di realizzare questo grande cantiere in zona portuale in quanto toglie la visuale di tutta una parte del porto del mare fino a Pesaro e quindi lede anche la passeggiata del Lisippo. In realtà un'operazione di quel genere, che oscura anche la passeggiata del Lisippo, ha dichiarato, doveva essere fatta nella zona dei Goccarte in un'area abbandonata e depressa dove bastava fare un altro molo per il varo delle barche senza andare a coinvolgere tutto viare adriatico dove ci sono sei alberghi e dove le macchine dovranno essere spostate per il passaggio o devono essere spostate anche oggi per il passaggio delle barche e dove non si sono trovate nemmeno aree alternative per la sosta delle macchine dei turisti. Insomma, in questo caso le esigenze del turismo contrastano con quelle delle attività produttive. Quale scegliere? Quale privilegiare? Ebbene, questo suscita dibattito perché l'amministrazione comunale ha dato il via libera ma l'area della canteristica è stata data in concessione a delle ditte da tanto tanto tempo e quindi prima o poi queste ditte dovevano in qualche modo, anche se ci sono stati dei passaggi di proprietà realizzare quanto l'area urbanisticamente concedeva di fare. E la nuova caserma Paolini? Ebbene, anche qui sembra che ci sia un errore. Non solo il cantiere della canteristica è un errore secondo alcune entità della città di Fano ma anche la caserma questa volta viene giudicata un errore ma non da associazioni o da categorie da un esponente della giunta da Cora Fattori che è l'assessore al demanio che boccia l'idea l'assessore no, boccia l'idea del demanio lei è l'assessore all'ambiente e l'assessore alla cultura anche se ora è in giunta l'assessore è ancora convinta che sia sbagliatissimo affidare una ala della caserma Paolini alla caserma dei Carabinieri perché? Perché la caserma dei Carabinieri dovrebbe essere realizzata in un ambiente protetto qui invece abbiamo il parcheggio libero avremo poi l'area principale che sarà affidata al comune l'area della regione che sarà affidata ai servizi sanitari quindi la caserma sarà un edificio di grande accessibilità di grande traffico e quindi secondo Cora Fattori la caserma dei Carabinieri mal si addice a essere allocata in una delle casermette della caserma Paolini per definizione commenta uno spazio militare è uno spazio chiuso che ha necessità di sicurezza io invece avevo pensato a una struttura aperta la città di collegamento con il centro funzionale adesso con 500 parcheggi addirittura su due piani quindi anche su un piano seminterrato ebbene anche qui ci sono polemiche l'importante speriamo che una scelta venga fatta e poi si realizza perché della caserma si sta parlando veramente tanto da tanto tempo parliamo anche di ordine pubblico ladri in azione in due quartieri della città abbiamo ladri che si sono così fatti vivi a Santorso e a San Lazzaro ladri in azione in cinque case la vittima ci ho scambiato pure due parole erano stati notati dei movimenti sospetti in una via di San Lazzaro dove una macchina con targa straniera stava facendo alcune manovre e addirittura avendo imboccato una strada in senso vietato uno dei residenti gli aveva detto che guardi che lì non ci si può andare invece quelli erano proprio ladri che cercavano appunto con circospezione di individuare l'oggetto dei loro raid e l'oggetto dei loro raid ha così interessato cinque appartamenti dove hanno svaliggiato tutto quello che hanno trovato ori con tanti oggetti di valore vediamo qui uno degli appartamenti messi a soquadro avrei dovuto farci più caso a quegli strani particolari invece non gli ho dato peso ha detto Paolo Zagaria un 61enne fanese all'indomani del furto subito anche lui è stata una vittima mi hanno rovesciato tutto l'armadio sul letto aprendo scatole e scatolette se ne sono andati via con la fede della moglie e altri monili d'oro per un valore stimato di 5.000 euro questo è stato uno dei bottini che sono stati fatti ma poi anche altri appartamenti come dicevo sono stati visitati poco dopo infatti la banda era già a ripetere il copione in altri tre appartamenti di un condominio a Sant'Orso dove hanno fatto tanti danni e hanno portato via un malloppo nonostante poi di grande rilevanza però erano più i danni che hanno praticato che hanno causato per appropriarsi del bottino e andiamo ad Urbino ad Urbino fa freddo fa freddo qui da noi sulla costa pensate in collina e in montagna all'Itis si gela gli studenti escono per protesta continui appelli alla provincia per intervenire e risolvere il problema che sembra primanga da diverso tempo però non c'è stata alcuna risposta ma ad oggi non è accaduto niente all'orizzonte nulla si muove i ragazzi hanno iniziato a fotografare tutti i secchi che raccolgono l'acqua perché piove dentro e quindi hanno messo dei secchi per non allagare i corridoi e poi vediamo come il dirigente ci ha detto di avere scritto alla provincia ma ancora non ci sono risposte questo l'abbiamo già detto in alcune aule ci sono infiltrazioni e muffe e a volte piove martedì i termosifoni non si sono avviati per un problema alla caldaia sono dei disagi che interessano non pochi studenti quelli che frequentano l'Itis e poi parliamo ancora di studenti perché c'è il sindaco Gambini che interviene per la multa che è stato fatto ad una famiglia di una neo laureata che per festeggiare ha sporcato la città con dei coriandoli ed è stata multata sporcare la città è vietato ovunque ha detto Gambini e noi difendiamo il sito dell'UNESCO il sindaco replica le polemiche seguite alla multa per il lancio di coriandoli alla festa di laurea sul dialogo città studenti promuoverà a giorni un dibattito pubblico con i cittadini le istituzioni e le associazioni ebbene si cerca di così sviscerare il rapporto tra studenti residenti e turisti gli studenti sono una risorsa molto importante per la città di Urbino anche per non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista economico e quindi occorre trovare un equilibrio tra la città, i servizi, gli studenti gli studi, insomma le strutture tutto quello che serve per mantenere una città una università di grande importanza appunto come l'Università Carlo Bo di Urbino adesso guardate questa fotografia guardate questa fotografia e vedete un camion che è in bilico in una recinzione, in un moretto camion in bilico in via Genga paura e qualche danno un furgone da lavoro si è intraversato ed è finito fuoristrada in via Genga ieri mattina ad Urbino rimanendo sospeso per metà sopra un cortiletto il mezzo ha sfondato con la parte posteriore un pezzo della ringhiera posta al lato della careggiata arrivando ad appoggiarsi sulla parete esterna del condominio affacciato sulla via la quale è rimasta bloccata anche per quanto riguarda il traffico per un po' di tempo alla fine è stato recuperato e rimesso in strada il camioncino tramite un delicato intervento con l'aiuto di un veicolo dotato di un braccio meccanico quindi è stato prelevato solo spavento per il conducente uscito in leso dall'incidente diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro dove c'è due pagine addirittura che riguardano i furti che si stanno compiendo a Villa Fastigi dove veramente qui i furti erano stati molti ebbene c'è stato un progresso nelle indagini e le forze dell'ordine hanno individuato un croato e la sua famiglia che dovrebbe essere l'autore dei furti che sono stati compiuti furti, Villa Fastigi, Spera preso un croato di 35 anni i residenti, sì, e lui, il ladro lo hanno riconosciuto nei guai anche i fratelli la polizia lo ferma sull'interquartieri poco dopo arrivano gli abitanti del quartiere urla e insulti foglio di via anche per la moglie e la cognata vivevano in una casa mobile a Villa Ceccolini lo hanno fermato a bordo di un Opel Adam Scura quella stessa auto che nei giorni durante, nei giorni in cui sono stati compiuti i raid dei furti i residenti di Villa Fastigi avevano notato vicino alle case e i negozi poi che sono stati svaliggiati quindi un'annotazione che rende ancora più precaria la posizione di questo croato che ora dovrà insomma essere interrogato e quindi potrà rispondere delle accuse che le vengono fornite, che le vengono fatte un quartiere sotto scacco commercianti nel mirino banditi senza scrupoli il nostro viaggio tra le vittime degli assalti il viaggio che fa il resto del Carlino la titolare della ferramenta hanno forzato la porta d'ingresso poi sono scappati il pizzaiolo spariti i soldi che erano in cassa insomma anche le attività lavorative sono state danneggiate da questi o questo malvivente che ha veramente furoreggiato in tutto il quartiere cantiere, negozi chiusi lavori all'ex intendenza trattativa con la ditta per avere un indennizzo il prossimo 6 marzo si inizieranno i lavori per l'innalzamento della impalcatura sul palazzo dell'ex intendenza di finanza che deve essere ristrutturato e questo comporterà la chiusura la cessazione di attività almeno per alcuni giorni di diversi negozi ecco perché i negozi vogliono un indennizzo per la mancata attività del loro esercizio lo vogliono magari simbolico lo vogliono dalla ditta e l'hanno chiesto tramite un avvocato stoppa le attività nei giorni del montaggio delle impalcature si cerca un accordo e poi vediamo il caso ancora della famiglia che ha subito uno sfratto si tratta della famiglia Moneti in cui vive anche Alessandro un disabile per il quale era stato espresso il desiderio di avere un trattore per la sua attività agricola Alessandro addio alla casa no rinvii lo sgombero va fatto adesso sembra che questa famiglia abbia sia comproprietaria di un appartamento che in questo momento è libero e potrebbe tranquillamente occupare ecco perché l'avvocato che difende la proprietà della casa della nuova acquirente l'ha acquistata all'asta che quindi ha decretato lo sfratto a questa famiglia dice ma c'è un appartamento perché non può andare via lo sfratto quindi deve essere eseguito lo sfratto va fatto e quindi mancano pochissimi giorni perché questo sfratto venga fatto in maniera esecutiva e poi vediamo l'attacco di un cane di un cane pericoloso si tratta di un pitbull un pitbull che ha sferrato un attacco in zona mare stesso film capitato anche a me molte analogie con il racconto di qualche giorno fa si ripetono dunque questi attacchi di cani mordaci di cani pericolosi nei confronti anche di altri cani ma poi anche dei padroni che cercano di difendere il loro amico quel cane libero ha aggredito me e il mio bassotto si tratta di Simone Simoncelli che dice che si trovava a passeggio con il suo cagnolino un bassotto quindi un cane di piccole dimensioni è stato puntato da una distanza di 100 metri da un pitbull che è corso velocemente verso di lui cercando di azzannare il cagnolino che lui nel frattempo aveva preso in braccio per proteggerlo e gli ha dato anche un mosso ad una gamba ed ora vuole il risarcimento ovviamente del proprietario del cane giriamo ancora la pagina e vediamo che abbiamo esaurito il resto del carlino quindi possiamo passare tranquillamente al corriere adriatico le altre notizie che riguardano il carriere adriatico sulla pagina di Fano ritorniamo a Villa Fastigi Villa Fastigi una polveriera furti scoperta una famiglia di ladri è quella del croato foglio di via per un uomo e due donne di origini croate per il colpo all'ex consorzio si indaga sul raid nelle case ed ora vediamo un aggiornamento in merito al biolab di Torraccia quella struttura di ricerca che viene contestata dai residenti perché è considerata pericolosa per l'ambiente e per i residenti stessi laboratorio di biosicurezza la Torraccia c'è il ricorso bisogna annullare secondo i residenti la delibera consigliare per la vendita del terreno la quale è viziata impugneremo qualsiasi altro atto hanno dichiarato dalle proteste nelle assemblee e manifestazioni in strada alla battaglia in tribunale contro la realizzazione di questo laboratorio si tratta di un laboratorio di livello 3 nel terreno della Torraccia all'angolo tra via Furiassi e via Grande Torino l'associazione socioculturale SEAM che sostiene la battaglia del comitato contrario al biolaboratorio ha presentato un ricorso al presidente della Repubblica Mattarella per ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale che è stata approvata il 24 ottobre scorso e quindi un ricorso che tenta di fermare dall'inizio questa realizzazione che invece i tecnici dicono che non ha alcun problema di sicurezza piazzale d'annunzio ne abbiamo parlato ieri facendo vedere il bel rendering che oggi il Corriere Adriatico ripropone eccolo qui nella foto ebbene è bello questo nuovo progetto però come capita spesso ai nuovi progetti comporta anche dei sacrifici verranno sottratti infatti dieci posti auto di parcheggio e quando si sottraggono i parcheggi soprattutto i residenti protestano perché sono loro poi che devono spostare le auto e parcheggiarli lontano da casa il futuro assetto sacrifica circa una decina di posti a scapito soprattutto dei residenti il comune promette troveremo delle soluzioni per il rilancio di Villa Molaroni il comune si affiderà ai privati Villa Molaroni una bellissima Villa Liberty degli inizi del 1900 che si trova in via Pola a Pesaro nei pressi del Lungomare è stato aperto un bando decennale per gestire questa storica dimora è una delle più belle della città di Pesaro dove un tempo c'era tutta una zona dedicata a città giardino anche in questo caso c'è un giardino con piante secolari di una vastità di circa un ettaro ed è bellissimo uno scrigno di cultura e memoria che merita più attenzione anche dal punto di vista turistico la villa infatti è il deposito del museo della marineria un museo che deve essere ancora più valorizzato per quello che è e qui il Corriere Adriatico evidenzia la storia di questo edificio e anche quello che rappresenta per la cultura è la forza d'attrazione turistica della città di Pesaro il ROF ha cambiato la mia carriera artistica Elio alla inaugurazione dell'anno accademico del Conservatorio Rossini vediamo Elio qui in questa fotografia accanto al sindaco e agli altri personaggi che appunto sono fanno parte della organizzazione del ROF concludiamo la nostra rassegna stampa con una notizia di sport e questa mattina vediamo che la Visse si prepara a sostenere altre nove partite per sentirsi in salvo anche la Reggiana sarà battaglia e sugli spalti sarà un Benelli da colpo d'occhio per quanto riguarda la prossima partita mentre sul resto del Carlino Fano è in retroscena della trattativa assaltata con un gruppo che la voleva acquistare era un gruppo italo-americano che è proprietario del Cesena però l'attuale presidente ha detto no non la vendo e ne parla appunto l'avvocato Orciani ancora altre notizie con Brindisi puntiamo al quarto posto si tratta di basket l'ex Doron Lamb arriva domenica e lancia la sfida alla VL era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi da appuntamento domani alle 7 e vi augura buona giornata grazie per l'ascolto grazie per l'anima notizia